salve oggi andiamo a vedere insieme come programmare i canali televisione allora ci sono vari marchi ma nella maggior parte dei marchi bene o male il menu più o meno è sempre lo stesso come fare per andare rapidamente a impostare i canali televisivi e soprattutto per metterli in automatico e in fila allora andiamo a premere innanzitutto come primo pulsante sul telecomando il pulsante input o sorgenti search quindi andiamo a impostare su il satellite se stiamo utilizzando chiaramente un'antenna satellitare e premiamo enter in questo modo noi siamo sulla tv satellitare quindi cosa fare adesso premere il pulsante menu andare nelle impostazioni prima cosa da fare è andare a cercare ripristino predefiniti o settaggio di fabbrica andiamo a fare ripristino dei predefiniti diciamo sì lei eseguirà il ripristino totale quindi qualsiasi altra manovra che abbiamo fatto che può andare a influire o comunque andare a mettersi contro quelle che sono le impostazioni da fare in finale le andrà tutte a resettare tornerà come da fabbrica poi seconda manovra da fare premere nuovamente menu sempre tornare nelle impostazioni e andare a cercare la prima installazione cosa farà questo la televisione praticamente la maggior parte delle televisioni al loro interno hanno già precaricato i canali per l'italia lo dobbiamo soltanto semplicemente andare a selezionarli quindi la prima installazione premiamo freccia destra ok a seconda del menu ci chiederà lingua paese e modalità energetica scegliamo home lingua italiano paese italia premiamo ok qui cosa abbiamo abbiamo il satellite il tipo di setup quindi satellite in questo caso dobbiamo andare a cercare se nella riga sotto sul satellite e il satellite hotbird mi raccomando non astra hotbird poi dopo per il resto lasciamo tutto com'è l'unica cosa che dobbiamo andare a modificare è andare a scegliere hotbird premiamo ok avvio ci chiederà vuoi precaricare i canali già all'interno del televisore gli diciamo sì a questo punto il televisore probabilmente si riabbierà o in alcuni casi no ma uscirà una schermata nera attendiamo qualche secondo proviamo andare su rai 1 per esempio ed ecco qui che i canali sono già pronti per l'utilizzo quindi rai 1 rai 2 rai 3 sono già tutti in fila quindi non dobbiamo fare niente semplicemente fare questa manovra è importante comunque ricordarsi che la cam deve essere inserita deve essere già attivata quindi dovete aver già telefonato tv sat per attivare la tessera o farla direttamente dal sito è importante che lei sia all'interno perché se no andremo a vedere solo i canali sd e i canali hd non ce li farà vedere fino a quando non attiviamo e non inseriamo la tessera al suo interno per il resto tutto completato operazione molto veloce e semplice grazie dell'attenzione